ciao a tutti e benvenuti nella mia rubrica consigli del giorno oggi vediamo come realizzare il punto blocchetti bicolore per realizzare questo campione utilizzato due gomitoli chiaramente una parte di questi due gomitoli di cotone fiocco il rosa e il bianco partiamo da una base di catenelle che deve essere multipla di 5 poi aggiungiamo 3 catenelle che è la prima maglia alta ok quindi adesso quindi multiplo di 5 più 3 catenelle allora io ho fatto infatti 25 catenelle più 3 quindi 28 catenelle adesso andiamo a lavorare il primo giro che deve essere praticamente devono essere tutte maglie alte quindi filo sull'uncinetto e andiamo a puntare l'uncinetto sulla quarta catenella e lavoriamo la prima maglia alta dopodiché andiamo a lavorare tutte maglie alte fino alla fine della riga ok siamo arrivata alla fine adesso prendo prima di chiudere l'ultima maglia e rimango con due soline sull'uncinetto prendo il filo bianco e quindi invece di chiudere con il filo rosa vado a chiudere con il filo bianco ok e poi giro il lavoro quindi adesso andiamo a lavorare tra la prima la seconda maglia alta in mezzo e andiamo a lavorare una maglia bassa questo modo adesso lavoro 3 catenelle poi salto 4 maglie quindi 1 2 3 4 e in mezzo vado a lavorare una maglia bassa vado avanti lavoro ancora 3 catenelle salto 4 maglie 1 2 3 4 sempre in mezzo non sulla solina ma proprio in mezzo taglio delle maglie lavoro una maglia bassa e arrivo fino alla fine della riga in questo modo eccoci qua arrivati alla fine nel frattempo taglio il filo rosa nel primo giro che questo associazione virà di nuovo adesso vado a terminare come dicevo il giro con il bianco quindi lavoro 3 catenelle e vado a puntare l'uncinetto dopo 1 2 3 4 maglie quindi tra l'ultima e la penultima lavoro la maglia bassa che però non chiudo con il bianco ma faccio come il giro precedente che chiudo con il rosa in modo che non si veda il cambio di colore ok e giro di nuovo il lavoro sono volta per ripartire con il terzo giro allora per il terzo giro lavoro 3 catenelle mi fanno la prima maglia alta poi vado a lavorare su questo archetto che ho creato con le catenelle con il filo bianco vado qui e lavoro 3 4 maglie alte 1 2 3 e 4 poi semplicemente mi sposto nell'archetto successivo e lavoro 4 maglie alte 1 2 3 e 4 ok quindi termino vado avanti tutta la linea facendo in questo modo su ogni archetto lavoro 4 maglie alte eccoci qua arrivati alla fine della riga lavoro una maglia alta sull'ultimo punto non lo chiudo ma di nuovo prendo il bianco per girare infatti prendo il bianco e chiudo le due soline e poi giro di nuovo vado a lavorare tra la prima e la seconda maglia alta una maglia bassa e poi lavoro una due tre catenelle e qui in mezzo vado a lavorare una maglia bassa fino alla fine alla fine della riga come come dei giri precedenti vado a chiudere l'ultimo punto che ho iniziato con il bianco con il rosa taglierò il bianco e sono pronta per ripartire con il giro successivo che sarà come questo sempre uguale ormai lo schema è sempre quello si alternano quindi praticamente vado a lavorare una maglia alta fatta con le tre catenelle e poi vado a lavorare sempre sugli archetti delle catenelle i blocchetti da quattro maglie alte ok quindi inizio sempre fuori da blocchetti con una maglia alta ovvero le tre catenelle e termino sempre con una maglia alta fuori da blocchetti ok quindi alterno questi giri insomma di rosa e di bianco così come vi ho fatto vedere per tutta l'altezza che ci serve diciamo e dopo di che una volta terminato tutto avremo un bel da fare per sistemare le codine anche se in realtà sicuramente se facciamo una copertina faremo un bordo quindi potremmo anche nasconderle mentre facciamo la lavorazione adesso faccio alcuni giri vi faccio vedere come viene ed ecco qua molto molto semplice ma a me piace tantissimo questo punto per una copertina credo che sia perfetto soprattutto magari per chi è alle prime armi è un punto molto semplice ma di grande effetto ok il video è terminato spero vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima ciao a tutti